Dopo l'annuncio della presentazione di una mozione di sfiducia per l'assessore al bilancio catarozzo da parte dell'opposizione, arriva la presa di posizione della sindaca Cecilia Francese. Strumentalità, mancata lettura delle carte, tentativo di spostare l'attenzione su altri temi per nascondere la mancanza progettuale, commenta la sindaca dopo la conferenza della minoranza. Ma anche tentativo di dividere la comunità in una fase così delicata, forse davvero e altri che dovrebbero dimettersi ed anche di corsa. Altro che richiedere le dimissioni dell'assessore a catarozzo, alla quale invece va la nostra piena fiducia e la gratitudine per il lavoro svolto in questi cinque anni.